Curvia gomito, gas spalancato e adrenalina a non finire. Il weekend del 9 e del 10 novembre sarà da cerchiare in rosso per gli appassionati di motori pugliesi, perché sul tracciato della masseria Camarda a Ceglie Messapica andrà in scena la quarta edizione della Fiorio Cup, un appuntamento attesissimo dagli appassionati di rally e che verrà proposto in una formula completamente rinnovata. Saranno infatti sei i piloti che si sfideranno a bordo di una Toyota Yaris e di una Skoda Fabia, due vetture entrambe rally 2, gommate Pirelli messe a disposizione da Delta Rally. Sul tracciato pugliese andrà in scena una sfida affascinante tra Italia e il resto d'Europa, confermatissima la presenza del pilota azzurro Andrea Crugnola, quattro volte campione italiano e vincitore delle prime tre edizioni della Fiorio Cup, in cui mai nessuno è riuscito a reggere i suoi ritmi, forse nati. Grande attesa anche per l'arrivo in Puglia di Calle Rovampera, due volte campione del mondo, oltre che di Henry Toivonen. Una new entry sarà invece Burku Cetincaia, pilotessa turca che sarà accolta dal padrone di casa Cesare Fiorio, ex direttore sportivo della scuderia Ferrari in Formula 1 dal 1989 al 1991, con cui ottenne 25 podi e 9 vittorie in 36 gran premi. Dicevo che qui alla Masseria Camarda tutto parla di competizione automobilistica, che come vedete questa è una Ferrari Formula 1 che ha vinto il Gran Premio del Brasile, fisicamente quella di Mansell che ha vinto il Gran Premio del Brasile, però qui avremo anche una grande prova che è questa Fiorio Cup. Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti